Come sapete in Ungheria vivono molto zigani e gli ungheresi sono riconoscenti agli zigani perché hanno dato loro delle bellissime musiche con le quali poi anche loro si sono avvalsi per fare questi bellissimi balli che voi conoscete. Ecco, questa è una regione vissuta dagli zigani, dagli ungheresi che vivono in comunità molto fiatate e loro con questo vogliono salutare, vogliono ringraziare, diciamo, è un omaggio praticamente ai loro compatrioti perché sono ungheresi anche voi. È un ballo stupendo interpretato dai ragazzi della scuola d'arte di Marton Vazar che è appunto questo villaggio vicino a Budapest. Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! a tutti!